Le misure adottate sono sempre state accompagnate da scelte difficilissime, mai fatte a cuor leggero. Esse, insieme ai sacrifici straordinari di milioni di italiane e di italiani, ci hanno permesso di piegare la curva del contagio. Non dobbiamo dimenticarlo mai. E con le misure che Governo e Regioni hanno adottato, che abbiamo salvato la vita a migliaia di persone, abbiamo alleggerito il peso insostenibile che arrivava sui nostri presidi sanitari, e abbiamo sviluppato giorno dopo giorno le condizioni perché l'Italia potesse finalmente ripartire. Siamo stati il primo Paese occidentale ad essere colpito. Abbiamo dovuto agire senza avere un modello facilmente replicabile. Le nostre scelte nelle settimane successive sono state seguite da quelle di molti altri Paesi, d'Europa e del mondo. Oggi possiamo dire che non vi era alternativa alla durezza delle misure adottate. I luoghi del mondo dove si è scelta una strategia più morbida, penso a chi ha provato a seguire la strada dell'immunità di gregge, stanno pagando un prezzo molto più salato in termini di vite umane oltre che in termini economici.